Scopri Mediolanum Freedom EasyCard, la nuova carta nata dalla collaborazione di Banca Mediolanum con Carta C. Prelevare, pagare e fare shopping online non è mai stato così semplice. Per i piccoli acquisti puoi pagare rapidamente con un semplice gesto in tutti i punti venditabili dati PayPass, ma anche attraverso i post tradizionali, inserendo il tuo pin segreto. E se vuoi, puoi anche fare acquisti direttamente con il tuo smartphone, grazie alla predisposizione NFC. Puoi ricaricarla sempre e ovunque ti trovi, attraverso i canali di Banca Mediolanum, il sito Carta C e presso i punti Cisal Pay. Oppure con l'opzione sempre carica, per alimentarla automaticamente senza pensarci più. Acquista in tutta serenità con la tua carta prepagata. Mediolanum Freedom EasyCard ti avvisa con un SMS ogni volta che la usi, anche se spendi solo un euro. Puoi averla del tuo colore preferito e se vuoi personalizzarla con nome e foto, così è ancora più sicura. E con Mediolanum Freedom Rewarding vinci fantastici premi semplicemente utilizzando la tua carta. Mediolanum Freedom EasyCard. I tuoi acquisti in libertà.